Sì, vabbè, basta me ne apri il volo. Aspetta, si registra? Sì, sì, già si registra. Ok, due e mezzo, cinque, dieci, venti, venti. Ok, bravo. Dieci, cinque, due e mezzo, bianciare i venti. Quello ripiamo dopo. Sì, sì, quello dopo. Ti metto qua, va. Sei. Cinque, quattro, tre, due, uno, vai. Spingi tutti quei piedi a terra. Riposo. Famo qui, te riposo. Come dai tutta la gamba, ti infigli sotto veloce. Spingi poi le braccia in alto. Passiamo a novanta. Anche perché questo ti sblocchi, eh? Sei a un minuto e cinque, adesso. Quando senti che è a novanta. Così è a novanta. Sta convinto. Ma per questo ce l'hai facendo, sto preso. Dai tutto. Salta in alto, non salta avanti, Mattè. Saremo il 55. Ho già fatto il nuovo. Fate tanto. Guardate che mi sape. No, non lo lasciate. Con il fortione. Bene. stai a 2 e 30 stacca la testa da vai in alto il filo di sotto chiello 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 ok 2 e 42 se te la senti riproviamo 95 di prima per mezzo 257 c'è due minuti tutta gamba veloce sotto stabile spingilo in alto 3 e 15 dai che è tuo questo 340 ok sposta quello ti inquadro quello di bilanciare adesso vai bilanciare 20 kg 20 plate 20 20 dai power snatch totale 60 kg c'hai 10 snatch scusa e il tempo c'hai 4 e 7 e c'hai 7 bar muscle up 4 volte 4 e 20 4 e 30 come pensi di partire ok vai troppo in go o fai piccole qualcuno ne provi 4 e 45 4 e 45 adesso io mi devo mettere in un'altra parte però qua si si procedeva lui 3 secondi 2 1 vai 1 2 3 4 5 6 7 se ne mancano 3 8 9 10 hai 7 bar muscle up 1 2 3 no no prendi vieni penso ti passa dietro 4 5 6 7 un giro andato 6 in 9 1 2 3 3 4 6 37 vai Matteo 5 vai 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 6 6 subito Matteo 7 7 7 minuti vai 8 7 se ne mancano 2 9 l'ultima 7 e 15 10 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7. 7.50, 8 minuti di ora, 1, 2, 3, 4, 5, bravo, vai metti le mani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.50, 8.50, 8.50, 8.50, 8.50, 8.50, 8.50, 8.50, 8.50, 8.50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.50, 8.50, 8.50, 9.50, 9.50, 9.50, 9.50, 1 2 3 4 5 6 ottimo, l'ultimo 7 9.52 ti manca il quarto round dai il tempo è ottimo attacca di drop and go 1 2 3 4 5 5 dai 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 sei a metà dai 6 bravo dai Matteo si fa un tempone metti le mani e vai 7 te ne mancano 3 dai Matteo tiello 8 mancano 2 6 11 e 4 dai che poi hai fatto dai tiello 9 l'ultima su 10 dai Matteo hai finito dai 11 e 23 1 2 3 4 5 6 1 7 bravo 47 bravo si io ho bloccato 11 e 48 ma bravo 4 5 6 6 6 8 9 10 15 15